ben ritrovati con un nuovo appuntamento su Colossea Channel oggi torniamo a Dostia Lido in via dei Rostri a 200 metri dal mare e proponiamo un piano terzo in perfette condizioni e ben rifinito l'immobile è composto da ingresso salone angolo cottura camera matrimoniale bagno e due balconi ed ecco il salone immobile completamente ristrutturato pavimentazione in grass porcellana tuo effetto un rovere infissi con doppio vetro in alluminio e l'immobile gode anche di una fantastica vista mare vediamo la zona a notte composta da camera matrimoniale camera media e bagno vi ricordiamo che per visionare l'immobile potete potete contattarci allo 06 50 91 53 70 o attraverso il nostro sito internet www.colosseaimmobiliare.it per vendere o comprare un immobile scegli Colossea braica Grazie a tutti.